il programma torte lì come l'uno inizia da qua io colpa il gioco a doppiarlo faccio faccia andare bambiano vediamo cosa succede ok stop da qua e non ci toccare anche adesso stop, no no, lo facciamo partire guardi come sta al pianale adesso siccome è a vuoto la cosa è andata più veloce se voi lavorate diversamente dopo questo è tutto un po' di programma no, il funzionamento della macchina è un'altra cosa adesso fa, questo fa, prima il perimetro esterno poi mi sa che fa le tazze noi il perimetro esterno lo facciamo per ultimo facciamo i fori piccoli, i fori grandi e qua per fare i fori non c'hai la punta del trapano io uso la presa del sete io uso la presa del sete ma non faccio altre cose invece abbiamo una testa che ha le punte del trapano quindi il cuore ne basta e qui ho le presse perché sono le presse perché sono le presse per fare ciò delle punte ma ce l'ho per fare i fori perché quella tutta si parte sia i fori che anche i fori e quello che si parte del sete perché noi qui non facevamo il generale facevamo i macchi da lavoro per Diego e facevamo i fibroidi ma qui al momento impastava le presse lo disprende e lo mette in basso e ci sta facendo la scanalatura con l'alluminio che è la piccola presa del 18? è davvero più lungo io direi e quindi ci fai una scalina all'interno? una scalina in che senso? viene così si ma la presenza quindi il pianale è di Leotto ma lui lavora più là perché toglie dal 2005 al 2100 quindi non mi 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 mi